Per noi che facciamo politica, o per come faccio politica, contano i fatti e non le parole. Quindi dai fatti noi valuteremo se il Partito Democratico inizia una fase nuova. Per ora i nomi sono più o meno sempre gli stessi. Ho letto anche alcuni passaggi di Zingaretti dove dice che il Paese probabilmente non avanza ed è un fermo per troppi no che sono stati dati come quello al referendum che invece secondo me è stato un grande momento di democrazia e di difesa della democrazia del nostro Paese. Io credo che Zingaretti vada valutato correttamente per quello che riuscirà a mettere in campo nelle prossime settimane. Quindi non bisogna avere un atteggiamento né pregiudizialmente ostile da un puntista politico ma nemmeno di pensare che siccome rappresenta il candidato diverso da quello di Renzi rappresenti automaticamente la novità. Insomma, sinora il Partito Democratico non ci ha mai sorpreso positivamente. Se questo accadrà, noi facciamo politica, lo facciamo nell'interesse del Paese, negli interessi generali, non per trovarci a prescindere il nemico politico del giorno, l'avversario politico, quello con cui dobbiamo per forza aprire un conflitto. Quindi valuteremo Nicola Zingaretti dai fatti. Sinora noi abbiamo a che fare col Partito Democratico delle nostre zone e soprattutto se pensiamo alla Regione Campania, non so se quello rappresenta che bisogna cambiare tutto. Quando dice bisogna cambiare tutto si riferisce anche al Partito Democratico Campano. Saranno questi banchi di prova su cui capiremo se ragioniamo con parole oppure c'è invece un cambiamento di rotta e ci sono fatti diversi. Grazie.